Il vicepresidente Stern sta lucifrattando chiunque incontri. Il vicepreside? Lo volevo dirvi a strinare sin da quando ha fatto chiudere il Dust Fun Club. Erika no, verreste assorbiti dal lucifractor. Lasciamo che si tenga la sua città, è un umano. Torneremo quando sarà crepato di vecchiaia, è chiaro? Se c'è da combattere io rimarrò al fianco dei miei amici. Non abbandono Sara se lui ha deciso di sterminarci. Voi due accompagnerete me. Non è così? Sì, Whitechaple faccia pure la fine che deve fare.